Buongiorno, io mi chiamo Erika Monzani, sono una ricercatrice culinaria e racconto la cucina, in particolare racconto la cucina ligure. Lo faccio attraverso il mio blog, che si chiama A Small Kitchen in Genoa, dove condivido ricette della tradizione, in italiano e in inglese, oltre che prodotti del territorio ligure e altre realtà legate alla cucina e alla nostra regione. Credo che la mia attività di divulgazione in merito alla cucina tradizionale si inserisca bene in un discorso di economia circolare, perché la cucina tradizionale è una cucina sostenibile. I principi della cucina tradizionale sono sostenibili e in particolare, ve ne elenco alcuni, innanzitutto la cucina tradizionale è stagionale, poi è una cucina di prossimità, utilizza prodotti locali e in particolare prodotti locali che possono essere anche di piccole produzioni, quindi in un'ottica anche di salvaguardia della biodiversità, è una cucina, sono ricette che aiutano a mantenere vivo il territorio e poi è una cucina antispreco, in passato non si buttava via nulla perché il cibo aveva un valore, aveva un prezzo e quindi è una cucina che riadatta e riutilizza più volte il cibo. E poi è una cucina naturalmente vegetariana, una cucina verde, perché una volta si mangiavano verdure, si mangiavano farinacei, si mangiavano legumi e le proteine animali erano un condimento principalmente, quindi credo che in tutto questo la cucina tradizionale sia circolare.